Da un lato un vicolo del centro storico aretino utilizzato come un grande WC a cielo aperto e dall'altra invece un bagno pubblico non funzionante e che per questo dovrebbe rimanere chiuso ma che invece è diventato nel tempo un vero e proprio prive della sporcizia. Due facce dello stesso degrado, quello in cui a volte ci imbattiamo passeggiando per le vie del centro di Arezzo, le arterie principali della città che dovrebbero dare il benvenuto ai turisti ma anche accogliere dignitosamente gli aretini e che in alcuni casi si trasformano in ritratti dell'incuria e dell'inciviltà. Partiamo da Vicolo a Capitano Ardelli, il tratto che collega via Oberdan a via De Mannini. Con il calare della sera alla zona infatti, come più volte hanno segnalato gli stessi residenti, si trasforma in un vero e proprio bagno pubblico sotto le stelle. Odori nasobondi e sporcizia abbandonata lungo il vicolo trasformano così il suggestivo scorcio del centro storico in uno degli angoli del degrado cittadino, proprio a pochi passi da Corso Italia, il cuore pulsante della città. Siamo dimenticati da tutti, tutto lì. Quali sono i problemi maggiori? Gente, ragazzi, ragazze che orino da tutte le parti, casino, spaccio, consumo di droga. In questo periodo i spazzini passano quando gli fa comodo perché specialmente lassù dove è stato tre giorni che era una cosa indecente da vedere, poi anche l'odore stesso uno lo sente. Dei bagni pubblici a ridosso del parcheggio Eden ad Arezzo ce ne eravamo già occupati qualche mese fa documentando la situazione di estremo degrado in cui versava il piccolo bagno, da tempo non funzionante come segnale il cartello con la scritta guasto. Ma la porta automatica del bagno pubblico a pagamento molto probabilmente era stata forzata ed era così rimasta aperta. All'interno, oltre ad ogni tipo di sporcizia, numerose siringhe lasciate a terra a dimostrare il frequente passaggio di tossicodipendenti.